Consacrarsi significa dedicarsi ad uno scopo o ad un obiettivo specifico. Consacrare a se stessi significa dedicare la propria vita a qualcosa oppure a qualcuno della massima importanza. Quindi la consacrazione del credente è verso Dio, è verso il suo figliuolo Gesù Cristo ed è un vero e proprio stile di vita alla luce della vita eterna e in vista del regno inaugurato nei nostri cuori da quando abbiamo accolto il Salvatore, da quando lo Spirito Santo ci ha rigenerati, ovvero fatti rinascere spiritualmente a novità di vita. La consacrazione del credente a Dio è la normalità per il cristiano, in quanto siamo diventati tempio dello Spirito Santo. Spesso questo termine consacrazione può dare l'idea di appartarsi, ritirarsi, isolarsi per non essere contaminati da quanto ci circonda, ma in realtà esso va applicato soprattutto, principalmente nel nostro interiore, nell'intimo, così che possiamo realmente distaccarci da tutto ciò che ci ostacola, che ostacola il nostro cammino o lo confonde o lo rallenta. Nel contesto sociale però noi dobbiamo vivere nel mondo, tanto è vero che noi, come ha detto Gesù, siamo nel mondo pur non appartenendo ad esso, altrimenti come potremmo testimoniare di Cristo e come potremmo compartecipare l'Evangelo al prossimo. La consacrazione, inoltre, occorre precisare, è un processo che passo dopo passo il credente si va conformando al carattere di Cristo ed essendo un desiderio ardente di Dio e quindi alla portata di tutti. Sarebbe dunque buona cosa chiedere questo che sto facendo o questa situazione in cui mi trovo contribuisce a farmi del bene, piace al Signore e camminare sereni nella consapevolezza che abbiamo un cartello con scritto comunque lavori in corso e che ogni giorno possiamo imparare e possiamo maturare. Un antico catechismo a tal proposito dice Dio ci ha creato per conoscerlo, per amarlo in questa vita e per poi goderlo nell'altra in paradiso. Grazie a tutti.